Tutti hanno sentito parlare dell'uomo nero, una creatura alta e scura che esce di notte e spaventa i bambini. Questa è una storia classica, una di quelle che viene raccontata durante i bijama party per intimorire gli amici. Le persone hanno escogitato diverse versioni della storia, ad esempio che l'uomo nero esce allo scoperto solo durante la luna piena, che prenda la forma delle vostre paure più grandi, o che vive sotto il vostro letto e aspetta il momento giusto, proprio quando siete più vulnerabili per rapirvi. Ma conosco la verità, non esiste l'uomo nero, esiste solo qualcosa di molto diverso, qualcosa che si allontana dalle leggende. Qualcosa che non vi aspettereste. Come faccio a saperlo? Perché l'ho visto con i miei occhi. Avevo 11 anni. Vivevo in una casa relativamente tranquilla in periferia con i miei genitori. Essendo figlio unico, ebbi il privilegio di ottenere tutto ciò che volevo. Avevo una grande camera da letto tutta per me, piena di giocattoli e videogiochi. Era un bambino piuttosto viziato. Con il passare delle settimane, lo spazio nella mia stanza diminuiva, quindi i miei genitori decisero che era ora che trovassi un posto dove riporre tutta la mia roba, che non fosse sul pavimento. Quindi, qualche settimana prima dell'accaduto, avevano trovato un vecchio armadio di seconda mano, e avevano deciso che si sarebbe adattato perfettamente alla mia stanza. Non avevo una grande opinione sull'armadio, e lasciai che i miei genitori lo sistemassero e pulissero come volevano. Passarono diversi giorni senza che accadesse nulla di anomalo. I giorni diventarono settimane, e ben presto l'armadio fu pieno dei miei giochi. Polvere e ragnatele si accumulavano in alto. Segni di morsi incornicevano la porta, e parte degli angoli erano schieggiati. Se prima l'armadio di seconda mano sembrava vecchio, lo sembrava di più adesso, dopo aver trascorso alcune settimane nella mia cameretta. Ripensandoci, c'era qualcosa nell'avvicinarsi a quell'armadio che mi era sempre sembrato un po' strano. Era come se avessi una brutta sensazione, brividi ogni volta che mi avvicinavo. Ma da bambino quale ero non prestai molta attenzione a ciò, e ignorai la faccenda. La notte in cui successe tutto, stavo giocando con i miei peluche preferiti. Fu interrotto da mia madre, che entrò nella stanza per dirmi che era ora di andare a letto. Con riluttanza mi sii i peluche nell'armadio e mi infierai sotto le coperte. Mia madre me le rimboccò, mi diede qualche bacio sulla guancia e spense le luci, mentre lasciava la stanza. Sapevo che avrei dovuto dormire, ma in quel momento proprio non potevo. Ci avevo provato, ma avevo troppa energia. Volevo continuare a giocare. Sicuramente altri dieci minuti non mi avrebbero potuto far male, avevo pensato tra me e me. Mi girai e osservai la porta per qualche istante, finché non vedi la luce spegnersi. Mi diressi verso il vecchio armadio. Nella penombra sembrava che torreggiasse su di me. Fino ad allora non mi ero mai reso conto di quanto fosse alto. Mi sentire a brividire mentre mi avvicinavo al mobile, cosa che mi era sembrata strana, perché non sentivo freddo. Ignorando ciò, allungai la mano e aprì l'anta, il più silenziosamente possibile per non allertare i miei genitori, e guardai dentro. Giocattoli, carte e giochi da tavola erano sparsi nell'armadio. Incapace di vedere veramente, mi avvicinai alla cieca, cercando di trovare i miei peluche preferiti, ma senza successo. Agrottando la fronte, inclinai il corpo in avanti, quando all'improvviso mi senti cadere, con l'anta dietro di me che gracchiava rumorosamente. Armeggei per qualche istante per rimettermi in piedi, ma scoprì che era impossibile alzarmi con tutto il disordine intorno a me. Mi piegai in avanti per cercare di trovare le pareti, in modo da potermi sostenere, ma non riuscivo a trovare nulla. Inciampai ancora una volta in me stesso e senti il mio corpo crollare. Un leggero panico mi salì nel petto mentre correvo all'indietro, ma alla fine mi senti spingere fuori dall'armadio e caddi fuori. Mi sedetti sul pavimento respirando affannosamente. Ci volle un momento, ma non appena i miei occhi si adattarono all'ambiente circostante. Capì subito che non era la mia stanza. Lo sapevo perché potevo vedere i deboli contorni delle pareti e rispetto alla mia stanza, ampia e spaziosa, questo posto era minuscolo. Non solo. Potevo sentire qualcosa di morbido e intrecciato sotto il punto in cui ero seduto, il che era strano. Mi alzai e avanzai con grande cautela affinché non colpì qualcosa di grosso e rigido. Non ero sicuro di cosa si trattasse esattamente, ma prima che avessi la possibilità di allungare la mano e toccarlo senti un leggero clic. Era stata accesa la luce, facendomi socchiudere gli occhi per adattarmi all'oscurità. Aprì gli occhi e finalmente riuscì a vedere ciò che mi circondava. Era in una specie di camera da letto. Era piccola e dipinta di rosa chiaro. Un suono acuto proveniente da dietro me interrompe i miei pensieri. Mi bloccai in un istante. C'era qualcos'altro qui. Non ero solo. Degluti e mi voltai. Davanti a me, a poca distanza, c'era la forma di un essere di cui avevo sentito parlare solo durante i terrori notturni. La sua pelle era pallida, con chiazze di un rosso intenso sotto i suoi occhi piccolissimi. La sua testa era insolitamente rotonda e lunghe ciocche di peli scuri arruffati coprivano il viso. Due rigonfiamenti di forma ovale spiccavano su entrambi i lati del viso, parzialmente nascosti dalle ciocche di capelli, ma ancora ben visibili. Forse la caratteristica più inquietante del suo volto era la verruca posta più o meno al centro, che apriva e chiudeva, mostrando dei denti squadrati ma non affilati. Era piuttosto basso di statura. Il suo corpo era stranamente asimmetrico e proporzionato, con le ossa appena visibili attraverso la pelle, a causa dell'eccesso di carne sul corpo della creatura. I suoi arti sottili si erano arricciati su se stessi e le sue zampe sporgevano artigli corti e rotondi sulle punta. Una nuova ondata di paura mi consumò mentre fissavo gli occhi del mostro che rimase immobile quanto me. Non potevo muovere un centimetro del mio corpo. Le funzioni motorie si bloccarono come se avessi perso ogni risposta, ma poi, senza preavviso, cominciò a muoversi lentamente verso di me. Tremava, si contorceva, muoveva gli arti in modo incerto. Una corte appendice si estendeva davanti all'altra. Si fermò. Rapidamente, all'improvviso, potevo vedere il torso sottile della figura ispirare ed espirare ad un ritmo irregolare. Il respiro si tramutava in una serie di sibili terrificanti. Il mio cuore cominciò a battere velocemente. Il mio respiro era affannoso a causa del panico. Fissai gli occhi della creatura e degluti, questa volta più forte. Da un momento all'altro questa cosa sarebbe potuta saltarmi addosso. Spostai lo sguardo intorno alla stanza, ma c'era così poco spazio e nessun posto dove scappare. L'unica uscita era bloccata dal mostro. Ma poi accadde qualcosa di strano. La creatura indietreggiò e iniziò ad emettere suoni. Gracidi, schiocchi e strani suoni uscivano dalla sua bocca. Le sue espressioni facciali si trasformavano mentre borbottava. I suoi piccolissimi occhi perdevano una specie di liquido trasparente. La sua voce sembrava minuscola. Era spaventato quanto me. Forse stava cercando di dirmi qualcosa. Fissai la creatura. Pensai che forse avrei potuto provare a comunicare. Abbastanza a lungo da bloccarlo e scappare finché non fossi riuscito a tornare in salvo. Così rivolsi un timido saluto. Ci fu il silenzio. La creatura si irrigidì. Gli occhi diventarono incredibilmente più grandi e la bocca cadde in quella che riconobbi come un'espressione di shock. Per un momento pensai che forse mi avesse capito. Finché dal mostro non esplose un grido penetrante. La creatura gettò indietro la testa ed emise un suono terribile che non avevo mai sentito in vita mia. Nel mio stato di congelamento potevo vedere una luce che iniziava ad illuminarsi dalla piccola fessore dalla porta e una serie di forti colpi che si avvicinavano sempre di più alla stanza. Fu allora che capì cosa stava succedendo. Stava chiamando gli altri sui simili. La realizzazione arrivò rapidamente mentre il panico cresceva nel mio petto. L'unico pensiero che mi passava per la testa in quel momento era che se non fossi uscito adesso sicuramente sarei morto. sarei morto senza che la mia famiglia sapesse dove fossi andato o cosa mi fosse successo. I rumori dei colpi si avvicinavano e potevo iniziare a sentire il suono delle altre creature. Le loro voci erano più profonde e meno acute di quelle della cosa davanti a me ma mi provocavano comunque brevidi nelle ossa. Dovevo andare via da lì. Guardai dietro la creatura e come previsto una replica esatta del mio armadio si stagliava contro le pareti rosa. L'adrenalina mi investì e all'impegno improvviso ripresi il controllo delle mie gambe e mi lanciai verso di essa evitando goffamente la creatura mentre la superavo di corsa e andai verso l'anta dell'armadio. Mi aggrappai alla maniglia e l'abri con una forza che non sapevo di avere. Mi trascinai attraverso l'anta e mi chiusi dentro. Mi rannicchiai e rimasi il più immobile possibile e il più silenzioso possibile. Attraverso lo sottile fessore dell'anta potevo vedere solo la parte posteriore del mostro e non il suo volto. I rumori cessarono ma potevo sentire chiaramente le loro voci e sapevo che dovevano essere arrivate. Stando da qualche parte da dove non potevo vedere suoni attuditi e tonfi furono tutto ciò che sentì per un paio di stanti prima che una nuova figura entrasse nel mio campo visivo e mi sentissi paralizzato come una nuova ondata di paura che mi travolgeva. La cosa era enorme. Sembrava una versione più completa e grande della creatura che avevo visto. Si accovacciò per prendere in braccio la creatura più piccola. Dalla sua bocca uscirono suoni rauchi e rilassanti. La piccola creatura si calmò lentamente dalla sua isteria. Un'altra voce ancora più profonda venne da dietro la porta dove non potevo vedere e la piccola creatura rispose. Dalla sua bocca uscivano suoni incomprensibili e con mio orrore allongò le sue membra per puntare proprio nella mia direzione, proprio dove mi nascondevo. Potevo vedere l'ombra di una creatura ancora più grande avanzare verso la mia direzione. Sussoltai violentemente mentre il panico prendeva il sopravvento. Deglutii, a fatica, desiderando che l'offuscamento nella mia vista scomparisse. Chiusi gli occhi e l'inditreggiai più che potevo preparandomi al peggio. Continuovo a strisciare avanti e indietro, aspettando il momento in cui la luce sarebbe entrata e avrebbe rivelato la mia identità. Ma non arrivò mai. Sentì la mia schiena colpire diversi piccoli oggetti. Risuonarono intorno mentre mi spingevo indietro nello scappare. Poi sentì l'antai all'armadio dietro di me aprirsi e caddi fuori. Facendo una capriola all'indietro attraverso un mucchio di giocattoli finché non rotolai fuori dall'armadio buio. Per un lungo momento rimasi semplicemente sdraiato sul davanti, raggomitolato in posizione fetale, senza voglia di muovermi. Mi abbracciai forte a tutte le mie membre per cercare di impedire al mio corpo di tremare, ma non servì a molto. Poi finalmente il mio occhio si aprì. Ero tornato nella mia stanza. Non potevo crederci. Non era cambiato nulla da quando me l'ero andato. A parte i giocattoli che erano ora sparsi intorno a me. Le ante dell'armadio erano chiuse. Feci l'unica cosa a cui potevo pensare in quel momento. Urlai. Non avevo idea da quanto tempo stessi urlando, ma tutto quello che sapevo era che la mia voce stava iniziando a rompersi e non potevo più trattenere le grita di angoscia che avevo trattenuto dentro me. Ero troppo fuori di testa per notare il rumore dei passi di miei genitori, che si dirigevano verso la mia stanza, le loro voci che gridavano freneticamente. Non elaborai l'accensione delle luci, ma sentì mia madre che dolcemente mi rassicurava, cullandomi contro il suo petto ossuto. Mi chiese cosa fosse successo. Gridai con tutta la voce che avevo in corpo, armadio, e allungai un braccio per indicarlo direttamente. I miei genitori si guardavano l'uno o l'altro. Mia madre mi chiese che cosa non andava, e io urlai ancora, mostro. Sentì mia madre sussurrare qualcosa a mio padre, ma non riuscì a capire cosa. Poi si voltò con voce calma verso di me e disse che papà avrebbe controllato. Non volevo. Avrei voluto dire a mio padre di smetterla prima che fosse troppo tardi, ma non ci riuscì. Le parole mi morirono lentamente in gola, come se qualcosa in me fisicamente appassisse e morisse. Aprileante dell'armadio, senza un attimo di esitazione e... niente. Non c'era niente. Non c'era niente lì tranne una pila disordinata di giocattoli e un muro di legno dietro. Mio padre mi sorrise, esponendo le sue zanne affilate in modo rassicurante. Mi disse che non dovevo preoccuparmi perché non c'era nulla di cui avere paura. Ero sconvolto. Dissi ai miei genitori che avevo visto tre creature dalla pelle rosa e strana e con delle ciocche di capelli scuri distribuite in modo uniforme sulla testa. Mia madre mi zittì e mi cullò dolcemente tra i suoi tentacoli. Mi disse che era ora di tornare a dormire e che avrei potuto portare con me il signor Fluffes, il mio peluche preferito, che era sdraiato a terra proprio accanto a me. Il suo unico occhio, il suo sorriso carino, ma sdentato, mi rincuorarono. Mio padre se chinò e prese il signor Fluffes tra le sue braccia ispide e mi sollevò in aria. Si trascinò al mio capezzale e mi mise a letto, dandomi un bacio sulla fronte. Fui sopraffatto da un'ondata di stanchezza e non potei fare a meno di soffocare in un sbadiglio. Sentì mia madre riracchiare leggermente mentre stava accanto a mio padre sul bordo del mio letto. Nonostante lo shock che sentivo ancora in tutto il corpo, annui lentamente con la testa. Ero semplicemente troppo stanco. Non volevo più giocare, volevo solo dormire. Dormì e feci finta che tutto questo non fosse mai successo. L'ultima cosa che ho sentito prima di perdere conoscenza fu la voce di mio padre che sussurrava. Ricorda ragazzo, i mostri non esistono. Ed era una cosa di cui non ero così sicuro. Puoi trovare la storia originale in inglese sul sito creepypasta.com. Lascio il link in descrizione insieme a tutti i canali di Arsenico Nero su cui ti invito a seguirmi. Per sostenere il mio lavoro ricorda di seguirmi su Instagram, dove ho anche una pagina in inglese e un canale TikTok. Trovi tutti i link in descrizione. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.